Celebrazione guerriera al Vittoriano, il quattordicesimo annuale della milizia. Il duce ascende all'altare della patria per ascoltare la messa al campo. Dopo il rito religioso, comunicato il conferimento dell'ordine militare di Savoia alla milizia, il duce decora i labari delle vittoriose legioni dell'Africa orientale italiana. 13 croci dell'ordine militare di Savoia, 2 medaglie d'argento e 6 medaglie di bronzo. Segue la consegna delle ricompense al valore militare, alla memoria, alle famiglie degli eroi caduti per l'impero. Una croce dell'ordine militare di Savoia, 13 medaglie d'oro, 27 medaglie d'argento e una di bronzo. Nuo, 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 all'ordinei di parrot. Nuo, 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 bulldo, con Roma, all'ordinei. Nuo, 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 pu destro. Nuo, nuo, la mieli diappa parla. Nuo, nuo, stai insent rappelle nei tir Kindaas al sole delg近.